Salve a tutti signori, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Un saluto a tutti come sempre da Max. Parliamo di grande fratello VIP, parliamo di, in particolare, Edoardo Tavassi. Capiamo un attimino cosa ha combinato il fratello di Gwendalina che è stato convocato all'interno del confessionale da chi? Sempre dal timoniere, cioè Alfonso Signorini, per potersi soffermare sul suo privato. Andando nello specifico, gli sono state poste delle domande, domande non troppo scomode, ma inerenti alla sua sfera intima. Quindi, argomento un po' particolare. Lui ha confessato di aver amato tre ragazze nella sua vita, ma non ha saputo una cosa molto importante che invece la produzione stava mostrando al pubblico e anche a tutti gli altri concorrenti, cioè praticamente a tutti. Ebbene, per questo motivo Michelin Corvaia e Jael Dedonat lo hanno un attimino punzecchiato. Ovviamente non essendo a conoscenza di quanto fatto dalla regia del GF VIP 7, Edoardo Tavassi non ha avuto molta facilità a comprendere di cosa stessero parlando. E quindi tutte le attenzioni sono state rivolte ad alcune foto che hanno fatto discutere anche moltissimi telespettatori. E un dubbio è serpeggiato nella mente delle due concorrenti, nonché nel pubblico. In tanti lo hanno paragonato in questa occasione a sua sorella Gwendalina, ma vediamo insieme cosa è accaduto durante la diretta. Nel corso della puntata del GF VIP 7, Edoardo Tavassi ha parlato quindi delle sue ex fidanzate e ha confessato di non aver mai fatto tradimenti in vita sua. Ma non è stato questo il tema predominante di Michelin Corvaia e Jael Dedonat, che invece quando lui ha fatto rientro in salotto, si è sentito dire delle frasi inaspettate. Ad iniziare è stata la sorella di Clizia, che è diventata praticamente la sua fidanzata. Quest'ultima ha infatti notato dei dettagli molto particolari su alcune immagini di lui, provenienti dal passato. Nicola ha esordito, affermando davanti a Tavassi, a proposito di filtri, forse faresti meglio a usarli anche tu nelle foto. La ragazza ha spiegato l'accaduto, dato che lui non stava capendo granché, e gli ha detto di aver visionato delle immagini di lui da giovane in cui non era affatto bello. E Jael ha poi aggiunto, secondo me qualcosina l'ha rifatta. La Dedonat non ha escluso qualche ritocchino estetico, ma non ne abbiamo conferme, visto che a differenza di Gwendalina non ha mai confessato di essere ricorso alla chirurgia. E per vedere tutte le foto e per scoprire soprattutto le dichiarazioni di Edoardo Tavassi sui suoi amori del passato potete cliccare su video. Il filmato ha una durata di poco più di 11 minuti e qui lui si è finalmente aperto definitivamente anche su questa parte riservata della sua vita.